Bruno Arbaia è anche romanzene, sergista, divulgatore scientifico che è quello che ti farò fare soprattutto oggi pomeriggio, consulente editoriale prezioso, infaticabile e pioniere nella lingua spagnola e giornalista. Senti, andiamo con il fantasma dei fatti, tu ce l'hai che bisogna anche farlo vedere, facciamolo vedere. È uguale, è uguale. Senti, io vado subito nel midollo della questione. È un romanzo che contiene un sacco di piani temporali che inizia il 3 settembre del 1978 e poi finisce ad aprile dell'anno scorso. Ho contato bene il tempo. Contiene una prima persona che parla potresti essere tu, che potrebbe essere un personaggio Bruno Arbaia e poi contiene una terza persona. Poi ci sono personaggi in carne e ossa, sono davvero tanti, sono tutti molto emozionanti, dopo li vedremo. Ti chiedo di dirci fino a che punto si fonde la terza persona che è questo personaggio che muove l'azione, che è Tom il greco, con la tua prima persona di narratore, di alter ego probabilmente, o di Bruno Arbaia sul serio. Il romanzo si chiama Il fantasma dei fatti, che è un titolo preso dal libro che più odio di Leonardo Sciascia, un passaggio della scomparsa di Maiorana. Lo odio perché è un libro molto antiscientifico, ma non è qui il caso di parlarne, dove appunto Sciascia diceva che il terreno e la letteratura non sono i fatti, ma il fantasma dei fatti, cioè quello che l'immaginazione, l'elaborazione della finzione riesce a elaborare attorno ai fatti per illuminare delle zone oscure, delle zone che altrimenti resterebbero. L'alteratura che si occupa soltanto di fatti è una letteratura testimoniale ed è una letteratura limitata. Io in questo libro volevo all'inizio tentare di definire bene i fatti dai fantasmi dei fatti, cioè quello che si sapeva che realmente era accaduto da quello che io con la mia immaginazione e sulla base di tante letture potevo cercare di appunto di illuminare, di svelare un pochino. Poi le cose si sono un po' complicate perché mi sono reso conto che i fatti puri non esistono, esiste fondamentalmente sempre una loro interpretazione, una loro elaborazione, un loro racconto e anche nella realtà di oggi non sempre è facile distinguere i fatti dai loro fantasmi e quindi alla fine il libro gioca anche un po' su questo, sul fatto che, ripeto, che voglio separare i fatti, i fantasmi dei fatti, in realtà non ci riesco sempre. Questo avviene sia nella parte, diciamo, in cui Tomas Caramersinis, che dopo diremmo chi è, racconta la sua verità su tante vicende che ha attraversato avendo le mani in pasta in prima persona e sulla storia in cui un personaggio chiamato Bruno Arpaia racconta undici anni di ricerche, di illusioni, di entusiasmi, il making of di questo romanzo, dove, lo dico subito, non l'ho fatto tanto perché amo l'autofiction, ma perché questo romanzo per me è stato particolarmente significativo. Ho già detto undici anni di ricerche, partendo da quattro eventi di cui poi parleremo e nel corso di queste ricerche, di questi undici anni, io ho cambiato completamente la mia idea di partenza e quindi ho voluto raccontare tutte quelle ricerche, i momenti di esaltazione, i momenti di entusiasmo, i momenti di delusione, i momenti in cui ho abbandonato il romanzo, perché ho scritto un libro con con Javier Serkas che si chiama L'avventura di scrivere romanzi. Volevo che fosse chiaro come un romanzo anche per chi lo scrive e poi per chi lo legge, è un'avventura della conoscenza. Non puoi chiudere un romanzo e rimanere uguale a prima, è un romanzo assolutamente inutile. In questo caso era talmente evidente che mi aveva fatto cambiare completamente il mio punto di vista, la mia prospettiva su certi eventi storici importanti che ho voluto raccontare questa avventura della conoscenza, in modo che anche il lettore ci fosse dentro. Mescolando, come dicevamo prima, fatti e fantasmi dei fatti in un gioco, se vuoi, anche con il lettore che a questo punto dovrà distinguere dove la finzione nei fatti che racconta Thomas Caramessinis e dove è la finzione nei fatti che racconta il personaggio Bruno Arpaia. Ok, allora abbiamo fatti e fantasmi che si mescolano, però abbiamo questo personaggio che è Tommy Greco che è un po' più fantasma del resto di personaggi che ci sono dentro. Ci dici come vi siete incontrati? Anche perché poi nel corso del romanzo ci sono forti indizi che fanno prevedere che lui non ti mollerà, questo fantasma non ti mollerà, dopo undici anni di lavoro come tu hai ben raccontato, c'è questa possibilità che questo fantasma non ti molli ed è una cosa che angoscia il lettore nelle ultime 70 pagine che sono davvero un'esplosione. Allora, questo libro è nato perché il mio amico Pietro Greco, che è uno dei più bravi giornalisti scientifici italiani, una sera, e lo racconto nel libro, mi mise insieme storie che io più o meno conoscevo ma non avevo mai collegato l'una all'altra e mi fece presente che nel breve volgere di nemmeno due anni, fra la fine del 61 e quella del 63, erano successe quattro eventi fondamentali per la storia del nostro paese, cioè era morto in un incidente stradale Mario Ciù che era il direttore del laboratorio elettronico dell'Olivetti, c'era stato l'attentato, ormai si può dire tranquillamente, ad Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, ed erano stati incriminati e condannati a pene pesantissime Felice Ippolito, che era il segretario del CNEN, l'ente nucleare italiano, e Domenico Marotta, che era il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che all'epoca, pochissimi lo sanno, era all'avanguardia nel mondo. Eravamo uno dei tre paesi al mondo che potevano produrre penicillina subito dopo la guerra a livello industriale, veniva gente, studiosi dall'estero a lavorare nel studio Superiore di Sanità, vincevano i Nobel. Con questi quattro eventi e la scomparsa, l'uscita di scena di questi quattro personaggi, l'Italia perdeva completamente ogni sua eccellenza, perdeva la primazia in campo biotecnologico, informatico, energetico, scientifico e perdeva anche il suo ruolo nello scacchiere politico internazionale. E allora Pietro Grego suggeriva, ma è mai possibile che dietro questi eventi, così compatti nel tempo, non ci sia una longa manus esterna, non siano il risultato di una trama elaborata all'estero o in Italia. E così, insomma, sollecitato da questo, con grandi preoccupazioni, perché mi sembrava una storia troppo grande per me, per i miei mezzi, mi sono messo a fare un po' di ricerche ed è subito spuntato fuori questo personaggio, questo Thomas Caramessinis, detto Tom il Greco, che era stato un personaggio sfuggentissimo, c'era pochissimo materiale su di lui, era stato il capo della stazione della CIA di Roma proprio in quegli anni, tra il 58 e il 62-63, poi era diventato capo delle operazioni coperte della CIA, prima vice capo, poi capo di tutte le operazioni coperte, il dipartimento dirty tricks della CIA e aveva avuto le mani in passa nelle manovre dopo l'assassinio di Kennedy, nella cattura di Che Guevara, nel tentativo di colpo prima, nel primo tentativo di colpo di Stato in Cile e soprattutto aveva lavorato nel periodo che mi interessava, cioè nel periodo in cui in Italia si discuteva molto sull'apertura a sinistra, cioè l'ingresso dei socialisti nel governo. Caramessinis sembrava proprio il figlio di puttana per eccellenza, il cattivo di qualunque film o di qualunque romanzo e invece pian piano, pian piano, pian piano mi sono reso conto che le cose non erano così facili, che la storia non era andata esattamente come io, forse un po' semplicisticamente me l'ero sempre immaginata dagli anni settanta in avanti, oppure come non era andata come ce l'avevano raccontata, non sempre la soluzione più logica era quella vera. Per cui va bene, insomma, Caramessinis è diventato una presenza incombente nella mia vita. Mi ha accompagnato per undici anni, ho cercato in libri, documenti desecretati, perché era una persona, pur essendo un altissimo papavero della CIA, c'era pochissimo di lui. Penso fosse uno che quando andava a fare la spesa, dopo aver fatto la spesa, ingogliava la lista della spesa, perché aveva veramente pochissime tracce, però insomma con un po' di caparbietà e soprattutto Caramessinis è indicato da moltissimi libri e perfino dalla commissione stragi come l'autore di un rapporto segreto e ancora segreto della CIA che giaceva a Washington subito dopo la morte di Enrico Mattei e dicevano che subito dopo la morte di Enrico Mattei lui aveva lasciato l'Italia ed era scappato negli Stati Uniti, come a dire questo perfino nel rapporto della commissione stragi. Tutto è cambiato per me quando ho scoperto che questa era una fake news che tutti quanti ripetevano a campanella senza averla verificata, perché poi ho scoperto che la sera della morte di Mattei lui era a pranzo con Nicola Pignatelli, un suo amico che era il presidente della Gulf italiana, a Washington e in quel momento si stava occupando di una cosa ancora più grave della morte di Mattei, cioè dei missili russi a Cuba. Quindi era un po' difficile che fosse lui l'autore di tutte le manovre attorno a Mattei, anzi, come poi pian piano. Quindi per citare, come ho citato nel libro Arturo Perestreverte, si potrebbe dire che alla fine ho scoperto che Thomas Caramessinis era sì un figlio di puttana, ma era un figlio di puttana che giocava secondo certe regole, perché anche in tutti gli altri episodi che lo avevano visto coinvolto, quello che più mi ha colpito è stato quello del Cile, perché io sono venuto alla politica e al mondo, avevo 16 anni quando ci fu il colpo di Stato in Cile, il tentativo del 1970, il colpo di Stato in Cile, ho scoperto che tutta la CIA era completamente contraria. Chi volle e spinse per fare quel tentativo che poi portò alla morte di un generale, a tentati vari e poi dopo, tre anni dopo, al golpe, furono Nixon e Kissinger, ma la CIA era completamente contraria, per esempio. Come la CIA era contraria ad uccidere Che Guevara? Voleva portarlo a Panama e interrogarlo, ci sono cablogrammi che da Washington, parlano con la gente che sta lì sul campo all'Iguera e gli dicono cerca di portarlo via vivo. Sono i generali boliviani che invece lo uccidono. Mi fermo, se no consumiamo tutto il tempo in questo, però io vado avanti. No, senti, allora abbiamo parlato effettivamente delle due cose che ti volevo chiedere. Sono due grandi nuclei che contengono tutto questo, in parte tutto questo che hai detto ed altre cose ancora. E ho immaginato questo incontro perché ho invitato un sacco di insegnanti, ho invitato un sacco di alunni e come tu ben hai detto, quello è un momento tra gli anni 50 e 60 in cui l'Italia inizia a rialzare la testa, diciamo, e quindi ha l'opportunità non solo di rialzare la ricerca scientifica ma anche di trovare un'autonomia energetica. Tutto questo viene completamente cancellato di colpo con le quattro storie che tu hai raccontato in questo libro e quindi in qualche modo io credo che in questo specifico momento, e per questo il tuo libro è fondamentale ed è attualissimo, stiamo vivendo le conseguenze di quello stop. Quindi questo libro individua secondo me il punto di inizio del ritardo tecnologico che oggi abbiamo visto scoppiare nelle scuole per la chiusura dal virus. E poi individua la trascuratezza che abbiamo messo nella ricerca, per esempio. Ho anche solo l'idea che la formazione in un paese sia la sua spina dorsale. E mi interessava che appunto, visto che nei manuali di scuola questa storia che tu hai raccontato in un modo così appassionante che ti invita a girare di pagina in pagina, nei manuali di scuola questa storia e queste persone appaiono descritte al massimo in 4-5 righe. E secondo me il lavoro che tu hai fatto qui dentro è un lavoro per gli insegnanti e per le scuole. A chi pensavi mentre scrivevi? In tutti questi anni mentre mettevi insieme tutte queste cose, a parte ovviamente la ricerca, perché è un noir ma è anche un saggio, ma però è anche un insieme davvero di tante voci, di tante manifestazioni letterarie. A chi pensavi? Posso confessare che stavo pensando solo a me stesso, nel senso che ero e da un'ansia di sapere enorme. Non fregava nulla, poi dopo insomma ovviamente quando ti metti là e scrivi, pensi a un pubblico, però evidente io non c'è un pubblico specifico, perché per me questa questione che tu hai sollevato è talmente importante, perché noi sono più di 30-40 anni che l'Italia cresce meno di tutti gli altri paesi dell'Ocse, ma molto meno. E tutti quanti ogni tanto danno qualche soluzione, ma nessuno risale mai alle cause remote, alle cause profonde, che sono tutte lì in quei due anni, perché non è soltanto una questione tecnologica o di formazione, è una questione che ha a che fare con l'economia, nel senso che se tu perdi il primato dell'informatica che aveva l'Olivetti, era riuscita, pensa che Adriano Olivetti si lamentava del fatto che ovviamente gli Stati Uniti, gli inglesi, i francesi capivano che l'informatica era sempre un settore più strategico, davano un sacco di soldi per la ricerca, lui doveva addirittura regalare i suoi elaboratori elettronici al Ministero del Tesoro per far capire che cos'erano, non gli regalava, però lo abbandonavano. Però il problema è che in questo tempo, perché siamo in declino? Perché l'Italia è in declino? L'Italia è in declino perché nell'epoca che viene definita società della conoscenza, cioè gli oggetti che hanno più valore aggiunto non sono quelli in cui noi siamo bravissimi, no? A bassa e a media tecnologia, il design, la moda, no, sono questi aggeggini qui, l'hardware diciamo è pochi euro, il resto di quello che paghiamo è tutta la conoscenza che c'è qui dentro, c'è la meccanica quantistica, c'è l'attività, c'è è saltata qualunque capacità, siamo stati il paese che è più attagliato in ricerca, innovazione, formazione, cultura, università. Le nostre cifre sono ridicole, io dico sempre che lo spread più grave che abbiamo non è quello con i Bund tedeschi, ma è quello per esempio fra i nostri laureati, fra 25 e 34 anni, siamo gli ultimi nell'Ocse, abbiamo il 19% di laureati fra 25 e 34 anni, la Corea del Sud ha il 70% di laureati, il Canada ha il 65%, la Francia il 55%, è evidente che i nostri figli, i nostri nipoti, se in questo mondo reggerà ancora, cosa che non so bene, dovranno andare a fare i camerieri in Corea del Sud, perché i paesi che crescono di più sono quelli che più investono in tecnologie, ricerca scientifica, università, formazione, cultura, 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 perché ci vuole anche un ambiente, perché la creatività anche scientifica e tecnologica si sviluppi, no? E l'ambiente culturale è importantissimo. Lì, fra il 61 e il 63 noi abbiamo perso questo treno e nessuno per ignoranza, per incompetenza, perché gli interessi privati come al solito sono stati messi davanti agli interessi pubblici e nessuno, nessuno, destra, sinistra, centro, centrodestra e centrosinistra in tutti questi anni ha cercato di risalire a quelle cause profonde visto che ci troviamo nella società della conoscenza. Per capire il declino attuale, la nostra difficoltà oggi, bisogna risalire lì. Come? Scusami, mi trovo, faccio un altro collegamento con l'attualità e poi mi taccio. Sono partito dall'idea del complotto. Oggi vediamo il proliferare di teorie del complotto e mi sono reso conto che un complotto poi alla fine è il nostro desiderio che le cose abbiano un senso evidente, che ci rassicura. Trump oggi che dice i cinesi in un laboratorio, no? Magari, è stato già smentito da tutti gli scienziati, magari si potesse manipolare un virus, sapremmo anche come combatterlo. Però c'è il complotto, c'è la fake news, via. Invece no, le cose spesso sono molto più complicate, molto più complesse e bisogna faticare un po' per capirle. E se questo ci rassicura un po' meno e dobbiamo abituarci a essere un po' meno sicuri in questo mondo, come forse qualcuno si sta rendendo conto, no? Siamo sempre pericolanti in questo mondo. Basta un virus microscopico e ci mette tre miliardi di persone chiuse in casa. Eccoci, effettivamente. Quindi io ti ringrazio perché anche se hai pensato soltanto a te stesso, quindi ti sei fatto i cavoli tuoi, questo è un libro fondamentale per tutti gli insegnanti e per tutti gli studenti oggigiorno. Io mi sono sentita di consigliarlo proprio perché se dobbiamo cercare una causa è inutile che guardiamo nel governo di sei mesi fa o in quello di un anno fa. Le cause stanno qui dentro e sono davvero aggrappate a quegli anni. Dici, la scienza italiana resta nelle mani dei faccendieli di partito, delle eminenze grigie, dell'accademia, dei culi di pietra ministeriali che all'eccellenza antepongono l'osservanza delle circolari. Ecco, questa è una frase illuminante. è una situazione di Riccardo Chiaberge, si è dato merito a Riccardo. Sì, la situazione era quella, insomma, in quei mesi, in quegli anni la povertà della classe politica rispetto agli scienziati era una cosa incredibile. Perfino il grande De Gasperi, tutti gli scienziati arriva fermi e gli dice di andare avanti col nucleare italiano o di incentivare l'informatica. Alla fine, dopo 15 anni di insistenza, la risposta di De Gasperi a un suo ministro, che siccome era un fisico capisce qualcosa, quindi va di nuovo all'attacco sulla base e dice se proprio devi farla, questa cosa del nucleare falla, ma senza capire assolutamente nulla. Il grande De Gasperi, figuriamoci, diciamo, i piccolini di oggi. Purtroppo sì, purtroppo c'è un assoluto di stacco. Adesso col coronavirus si stanno ascoltando i virologi, gli epidemiologi, si fanno i comitati perché hanno tutti paura di morire. Però io non credo che dopo la situazione si ribalterà, non credo che dopo siano attenti. Lo vediamo sul cambiamento climatico. Sono 40 anni che gli scienziati ci avvertono di quello che sta succedendo oggi e succederà ancora. Nessun governante del mondo, tranne qualcuno, Obama, che al secondo mandato e quindi non doveva più lottare per il consenso, e Papa Francesco, il quale è un re, un monarca assoluto, quindi non deve, tutti gli altri che dipendono dalle lezioni, dal consenso immediato, nessuno ha dato ascolto agli scienziati. Per fortuna la cosa bella che vedo sono questi ragazzi che per la prima volta da anni, dai tempi in cui io manifestavo per le strade alla loro età, chiedono di dare ascolto agli scienziati, studiano, si mettono lì e studiano il cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Questo mi fa ben sperare per il futuro. Ecco, allora, al volo. Stiamo presentando Il fantasma dei fatti, però io vi invito a recuperare anche qualcosa là fuori, proprio perché è che è il romanzo precedente di Bruno e perché è legatissimo a questo. Io credo che si complementino in qualche modo e sul clima, quello che hai detto nel clima, lo racconti benissimo in qualcosa là fuori. Senti, e poi hai detto che le generazioni future dovranno andare a fare i camerieri in Corea. Ricordiamo anche che questi sono gli anni e il romanzo lo racconta, una fuga di cervelli come quella di Renato Dulbecco o di Rita Levinu e Tancini, quindi non è cambiato davvero nulla ed è il motivo per cui questo romanzo si legge, compassione, perché dimmi. Però all'epoca Dulbecco e la Montalcini se ne andavano, però per esempio veniva Bouvè all'Istituto Superiore di Sanità e vinceva il Nobel all'Istituto Superiore di Sanità. Il problema non è tanto i cervelli che se ne vanno. Se ci fosse interscambio sarebbe ottimo, no? Cervelli che se ne vanno, cervelli che arrivano. Perfetto. Il problema dell'Italia è che se ne vanno soltanto e nessuno viene più. Non è appetibile, certo, non è assolutamente appetibile. Senti, oggi ci preoccupiamo tanto di essere tracciati da questa app che rompe la nostra libertà individuale, ma dal fantasma dei fatti il lettore esce con la sensazione di aver affidato la democrazia e fin dal primo dopoguerra a delle potenze straniere. Abbiamo Washington e abbiamo Londra che decidono per noi chiaramente. Questo è un altro dei punti fondamentali del romanzo. Devo dire per me che gli Stati Uniti abbiano pesantemente messo le mani in pasta nella politica italiana per me era noto e stranoto. Quello che invece ho scoperto, mia ignoranza, ma insomma scoperto in questi undici anni è che anche l'Inghilterra lo ha fatto. Io pensavo che l'Inghilterra con la fine della seconda guerra mondiale avesse perso qualunque ruolo di grande potenza mondiale e invece gli inglesi si sono continuati a comportare come grande potenza mondiale con grande spocchia e con grande strafottenza soprattutto nei confronti dell'Italia. Perché l'Italia per loro era un punto strategico. Era il punto, capivano che gli Stati Uniti stavano prendendo il loro posto, però l'Italia era strategica per le rotte del petrolio. Due delle sette sorelle erano e sono inglesi o anglo-uglandesi. Il Medio Oriente, che era proprio la zona in cui Mattei rompeva le scatole, era il loro asset strategico. E quindi invece gli inglesi, ho scoperto con un libro di Fasanella e Cerechino, ma con tanti altri, sono intervenuti pesantemente nella storia d'Italia. C'è stata una guerra nella guerra, perfino durante la seconda guerra mondiale, una guerra fra gli Stati Uniti e gli inglesi. Anche rispetto all'atteggiamento di avere rispetto all'Italia. Mentre gli Stati Uniti comunque avevano l'obiettivo di rovesciare il nazifascismo, quindi parlavano perfino con i partigiani comunisti, gli inglesi parlavano soltanto con i partigiani bianchi, non davano aiuti ai comunisti, avevano a che fare anche loro e molto con la mafia siciliana, gli inglesi. E poi pian piano, pian piano, pian piano, questa storia arriva fino a Mattei, perché quello che a me è parso, e qui siamo appunto nell'interpretazione dei fatti, è che gli americani non avessero alcun, come si è sempre detto, la CIA e l'attentato a Mattei, però in realtà la mia impressione è che gli americani non avessero più alcun interesse a eliminare Mattei, perché Mattei aveva siglato, grazie all'intermediazione di George Ball, il segretario al commercio di Kennedy, aveva firmato un accordo con la Exxon, quindi con la capofila e le sorelle petrolifere americane, doveva andare, sarebbe dovuto andare da lì a pochi mesi negli Stati Uniti a parlare col presidente Kennedy e non solo di petrolio, e avrebbe ricevuto una laurea, mi ricordo se a Harvard o a Stanford. Di più, c'è l'impressione, per me è un'impressione, che Kennedy, che ha combinato un sacco di disastri anche in Italia, il grande John Kennedy, oltre a, insomma, avere tentato di uccidere, non so, più di cento volte Castro, Ti ho perso un attimino, però forse volevi dire che Kennedy appoggiava, dal punto di vista personale, una perdura a sinistra. A sinistra, certo, e addirittura pensava che Mattei, forse, nella mia interpretazione, pensava che Mattei potesse essere l'uomo che poteva, dicevo che pensava che forse gli altri uomini politici italiani, da Fanfani, che aveva incontrato, e di cui pure aveva letto dei libri, che Fanfani era comunque uno storico importante, però li considerava alle mezze calzette e non pensava che potessero incarnare la sua nuova frontiera. Forse Mattei era l'uomo, quindi questo ribaltava tutto, perché addirittura forse la CIA, nell'ultimo periodo, può aver protetto Mattei, anche se alla fine non c'è riuscito. Quindi è che forse dietro l'omicidio a Mattei è più possibile che ci siano gli inglesi, oltre a, diciamo, tante componenti italiane, perché Mattei dava fastidio a tutti, dava fastidio ai politici, dava fastidio ai grandi monopolisti dell'elettricità e delle compagnie elettriche, era per l'apertura a sinistra, parlava con tutti, ed era un uomo che poteva diventare presidente del Consiglio o addirittura si marmorava presidente della Repubblica. dava fastidio, dava fastidio anche a Lenia, qualcuno ha accusato addirittura a Cefis, che era il suo secondo, poi era stato licenziato. Insomma, anche in Italia non ce la caviamo male, forse non c'è, in quanto a complotti, non c'era bisogno forse della CIA nel seno delle CIA. Tra l'altro, quando hai detto che appunto verso la fine della sua permanenza in Italia, Tom il greco forse ha l'incarico di all'inizio spiare Mattei, ma poi proteggerlo, e dal punto di vista narrativo c'è una scena che mi ha coinvolta particolarmente, che sono sicura che colpirà i lettori quando arriveranno a quel punto. Tom decide di... Mattei è un uomo di abitudini fisse, quindi va sempre a prendere il caffè in un determinato posto, glielo tengono preparato nel momento in cui arriva, e Tom il greco si mette lì, e quello che all'inizio era un atto di spionaggio si diventa invece una preoccupazione quasi umana nei confronti di quest'uomo. ed è bello perché di questo Tom non sappiamo nulla, quindi è immaginato e delineato davvero con un'estrema finezza che ti fa capire che comunque era un uomo che ascoltava molto alla fine. era uno che era sicuramente molto al di sopra quanto a capacità di interpretazione nella realtà diciamo di gran parte dei funzionari di alto livello americani. Racconto, ma questo lo raccontano tutti, che nelle riunioni all'ambasciata americana a Roma prima dell'apertura a sinistra c'erano discussioni accaloratissime in cui c'era, come c'era l'amministrazione Kennedy rotta, spezzata a metà chi era favorevole, chi no, però l'ambasciata era contraria all'ambasciata di Roma e l'addetto militare Vernon Walters era contrario. Vernon Walters sosteneva addirittura che se i socialisti fossero andati al potere gli Stati Uniti avrebbero dovuto invadere l'Italia. Caramessinis riportava tutti alla ragione per quello che ho potuto capire perché ovviamente non ci sono i verbali di queste riunioni ma insomma ho trovato un po' di accenni qui e lì e pare che lui elaborasse strategie un po' più complesse di queste di Vernon Walters. Quanto alla scena che dici tu evidentemente quella l'ho immaginata però è vero che via Veneto era vicinissima all'albergo dove viveva Mattei quando stava a Roma con la moglie c'era una piccola suite e andava a prendere il caffè a quel bar tutti i giorni e per fare in fretta gli lasciavano il posto per la macchina l'autista lo racconta l'autista gli lasciavano il caffè pronto allora spaccato il minuto lui arrivava e aveva il caffè perché doveva berlo là e ho immaginato che Caramessinis stesse lì a guardarlo a vedere quest'uomo di cui tutti parlavano e poi Caramessinis cioè Mattei per esempio sapeva di essere seguito dal Sifar direi Lorenzo quello che poi avrebbe fatto il colpo di Stato quindi lui per esempio andava negli uffici dell'ENI oppure andava all'EUR aveva un'uscita secondaria lasciava la macchina seguita diciamo davanti volevo leggere un paragrafo per riassumere molto velocemente questa situazione di conflitto tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti che si gioca una battaglia che si gioca tutta sul terreno italiano gli americani incalzano e Londra per non perdere il proprio ruolo si dà molto da fare nella guerra segreta in Italia investe enormi somme nella propaganda occulta finanze a radio, giornali, giornalisti e leader di opinione e provvede anche alla riorganizzazione politico-militare degli ex fascisti e degli ex repubblichini degli anticomunisti più duri dentro questo libro troviamo degli spunti davvero per per darci delle risposte su molte delle situazioni che stiamo che stiamo vivendo che stiamo vivendo oggi e volevo fare una piccola incursione nel giornalismo Bruno perché abbiamo visto la tua ricerca lo dimostra che i fatti e i dati si fatica tantissimo a metterli insieme che ci vuole tempo che ci vuole uno stato umano e anche personale lo vediamo qui dentro che sia favorevole che propizzi quella raccolta di dati e perché secondo te oggi nei giornali questi fatti non non li troviamo siamo nell'epoca dell'opinione e questi fatti non non li troviamo tu gli esponi con Tartor Rigoni in una forma così accattivante il giornalismo secondo me continua ad essere questo il giornalismo dovrebbe essere quello ma purtroppo non lo è più non lo è più da tanto è è cambiato tutto non ti saprei dire adesso non voglio mettermi a fare una disquisizione sul giornalismo oggi a rimpiangere il passato è evidente che queste queste reti sociali che stiamo usando cambiano tutto cambiano molto però il rigore diciamo è la curiosità è la cultura perché insisto cioè il giornalismo di opinione non dà fastidio io non sono però per avere un'opinione devi conoscere i fatti tutti hanno opinioni senza conoscere i fatti per me è questo nell'opinione io anzi vorrei un giornale di opinione non lo trovo più vorrei un giornale di opinione ma basato sulla conoscenza dei fatti sembra un lavoro che nessuno vuole fare più perché nessuno se ne importa perché purtroppo viviamo in un paese con un altissimo tasso di analfabetismo funzionale e se ti metti lì a cercare di spiegare di raccontare delle cose complesse non ti segue nessuno perché come già diceva Giulio De Mauro ormai una persona normale non riesce a leggere un articolo di giornale più lungo di venti righe e anche quello avendo flash e non riuscendo mai a ricostruire la trama la gerarchia delle fonti nulla per cui è chiaro che in queste situazioni il giornalismo e poi per fare giornalismo cito Peppe D'Avanzo nel libro il mio amico Peppe D'Avanzo cioè Peppe D'Avanzo era un grande cronista di fatti però era una persona con una cultura enorme non puoi affrontare i fatti i fatti non vengono lì e non appunto non sono lì nudi e crudi e si tratta di fare un po' di lavoro per andarli a cogliere i fatti vanno interpretati sempre vedi solo quello che sei in grado di vedere perché hai un background dietro e oggi tanti colleghi mi pare che questo background non ce l'hanno più ecco questa secondo me informazione in cultura si esce così dalle scuole e si è umanisti in questo senso e anche per questo secondo me questo libro è così importante proprio per per gli insegnanti e per gli studenti delle delle superiori perché hai dato una definizione di umanesimo perfetta hai parlato di Peppe D'Avanzo tra l'altro sono davvero tanti oltre a Pietro Greco ma poi parliamo di Paco Taibo parliamo di Paloma Ciaiz è un libro molto generoso con le fonti che cita ed è un libro che apre gli occhi su altri libri e questo mi sembra sempre davvero straordinario in quando leggo qualche cosa senti alla luce di di quel che abbiamo detto fino ad ora dell'Italia vista un po' come proprio campo di battaglia degli interessi di Londra e di Washington io ho sempre sostenuto che essere ispanisti oggigiorno più che un fatto di dominare la lingua e le culture in lingua spagnola è anche un fatto ideologico cioè questo quello che tu racconti qui dentro mi fa capire in modo chiaro perché oggi la cultura inglese sia mainstream in Italia perché il 70% dei libri che si traducono si traducono dall'inglese perché per la lingua spagnola per esempio c'è solo questa pettina del 7% ci hanno tracciato un destino in tante forme hanno tracciato il destino di formazione delle generazioni future della tecnologia del migliorare dal punto di vista sociale e umano ma ci hanno tracciato proprio una forma mentale sei d'accordo? Sai sì lo spagnolo è una lingua che ti abitua ad accogliere la differenza perché ovviamente lo spagnolo che parli tu a Salamanca è quello che parlano a Chicon e le Asturie è quello che parlano a Città del Messico è quello che parlano in Colombia è quello che parlano a Buenos Aires sono diversi sono molto diversi li senti ci sono parole diverse eppure c'è questa grande comunità in cui le differenze sono accettate sono accolte e anzi sono benvenute perché arricchiscono la lingua allora se tu ti muovi in questo universo linguistico sei una persona quasi automaticamente dico io sei una persona che ha una mente aperta che non si chiude appunto nelle corazze dell'identità che è curiosa perché perché capisci che ci sono delle sfumature che non potresti dire in un altro modo e che ti fa ti piace molto come i messicani chi chiamano il tacchino o o cose del genere no ti allarghi sai che una lingua che comprende tante nazioni ti fa anche riflettere sulla stupidità delle nazioni e del nazionalismo e ti fa in qualche modo cercare poi dopo vai ognuno ha le sue cose ma affondi nella lingua del ciclo d'oro affondi che vedo non so ti dà una capacità di di cogliere le sfumature le complessità che secondo me anche l'italiano è una lingua bellissima per carità però devi stare a cavallo fra due culture fra due è più importante del resto il fatto di essere un traduttore quindi avere un piede da una parte un piede dall'altra è una cosa fondamentale perché ripeto io credo che il nostro guaio più forte sia questo questo rinchiudersi nell'identità difensivamente chiudersi come una corazza se sei uno che sta a cavallo fra due culture o fra tre questo pericolo non lo corri ed eviti di dire stupidaggi come prima gli italiani prima gli americani prima gli ungheresi che poi inevitabilmente si scontrano perché non tutti possono essere primi quindi alla fine proprio in questo periodo in cui più sarebbe necessario lavorare tutti insieme in una grande comunità vedo risorgere ancora una volta i nazionalismi l'afferrarsi alle proprie non portano a nessuna parte perché porterà alla sconfitta e al disastro speriamo che non sia così infatti lo spagnolo come lingua esempio di democrazia come lingua in sé è senz'altro la proiezione di futuro che abbiamo tutti gli ispanisti verso la nostra lingua grazie a tutti